La scarsa cautela utilizzata nei giorni passati ha portato a questa condizione. In questo momento la cosa importante e la massima attenzione è di stare chiusi a casa. È l'unico modo per interrompere la catena dei contagi. Non si conosce altra soluzione. Quello che non viene compreso è che contagiarsi è facilissimo. Tutti dobbiamo stare attenti, dobbiamo essere distanziati, dobbiamo seguire le norme di igiene personale, non dobbiamo avere colpi di testa, dobbiamo stare calmi e attenti.